Ormai non mi stupisco neanche di vedere chi dovrebbe in realtà essere già acuto, essere lì sul pezzo a monitorare, a valutare, a fornirci delle reali risposte. Quello là invece è sempre il primo a cadere dal pero, no? Quando viene scombustolato il normale equilibrio delle cose, quelli che dovrebbero darci le reali risposte, sono quelli che invece cascano dal pero, cascano proprio dal pero, no? Vivono in un mondo tutto loro, è fantastico. Adesso oggi parliamo delle dichiarazioni del ministro dello sport, per lo sport a Bodi, e sentite un po' cosa ha da dirci lui. E continuiamo con questo filone legato alla Juventus e al calcio italiano, questo terremoto di cui tanto si parla, sono ritornate in auge le intercettazioni passate, qualcuno le spaccia anche per nuove, magari. La posizione di Alexandro del Piero, che è un nome caldo al momento, e questo lo facciamo prima ovviamente delle partite del Mundial, su questo canale parliamo anche del Mundial, lo so che ormai quasi non interessa più. Ma vi invito prima di partire a lasciare un like, a iscrivervi, a seguire i prossimi contenuti di cui vi ho appena accennato. E tra l'altro, se volete altri dettagli, classifiche, girone, statistiche, se volete valutare tutto, ma non solo legato al calcio giocato, ma anche magari all'inchiesta, seguire qualsiasi genere di aggiornamento. C'è OneFootball, che lo fa in una maniera del tutto gratuita, per cui io ve lo dico, ve lo ripeto e ve lo riripeto. Non so se si può utilizzare, riripeto è bruttissimo, sentire comunque, link in descrizione, qui al code, l'app è gratuita. Andiamo al ministro Abodi, cosa ha detto a Lanza? Il ministro per lo sport, ragazzi, persona autoritaria, importante, cosa ci dice? No, la situazione della Juventus è soltanto la punta estrema, e per certi versi anche clamorosa, di un fenomeno su cui non possiamo voltarci dall'altra parte. Per come la mette sembrava quasi che, allora, si voleva avvoltare dall'altra parte, per come la mette, però, vabbè, questa è una mia sensazione. È il momento di mettere ordine e di andare a controllare in maniera più puntuale, perché ci sono società che si comportano in maniera estremamente corretta ed altre che evidentemente hanno interpretato in maniera troppo particolare le norme, e ciò determina un problema anche sul versante dell'equa competizione. L'autonomia sportiva debba essere garantita, ma i comportamenti gestionali è puntualmente la porta aperta quando inizio a registrare un video. Sembra veramente che qualcuno lo faccia apposta. Grazie. Dicevo, lo dice rispondendo a Lanza il ministro dello sport Andrea Bode, l'autonomia sportiva debba essere garantita, ma i comportamenti gestionali devono essere monitorati, analizzati, valutamente valutati e eventualmente sanzionati. Ma questa è una roba che già va fatta, già andava fatta. Non è che bisogna arrivare oggi per capire che bisogna mettere ordine, che bisogna stare attenti, che bisogna analizzare. Cioè, ste banalità e ste robe. Poi parla di mettere ordine, parliamo di mettere ordine e iniziamo a saltar fuori probabilmente, forse la Juventus non è solo, ma questo è mettere ordine, creare ancora più zizzania, scombussolare, buttarla in caciara. Il discorso è molto semplice, chi sbaglia deve pagare. Chi sbaglia, qualsiasi club, non è solo la Juventus, ce ne sono altre, parliamo, indaghiamo, valutiamo. Chi sbaglia deve pagare. Non ha sbagliato nessuno? Giusto che non paghi nessuno. Ma uscissene fuori, sempre con ste bagianate da quattro soldi, quando in realtà è inutile negarlo. Ad oggi, quando, ritornando al discorso delle plusvalenze, perché adesso le inchieste, ma soprattutto le intercettazioni che stanno emergendo, riguardano specialmente nella fattispecie quello, e vi riporto, per esempio, quella che è uscita di Cherubini, che sostiene, e che dice, con Fabio Paratici non si poteva ragionare. Finché c'è stata una notte, gli metteva un freno. Quando è andato via, ha avuto carta libera. Si poteva svegliare la mattina e firmare 20 milioni senza che nessuno gli dicesse niente. Io gliel'ho detto, è una modalità lecita, ma hai spinto troppo. E lui mi rispondeva, non ci importa nulla, perché gli scambi, e si parla di scambi di cartellino di un giocatore, no? Come ad esempio quello Piani, c'è Arthur, no? Gli scambi, se metti 4, metti 10, è uguale. Nessuno ti può dire nulla. Ecco. E ritorniamo al discorso delle plusvalenze. Finché non c'è un... Non c'è l'abbecedario del... Mi piace questo termine. L'abbecedario del valore del giocatore, no? Non c'è qualcosa che regola il reale valore, no? Un'autorità, un qualcosa che veramente ti dico. Questo giocatore vale tot, vale tot, punto. No, non sapendo quello che è il valore del giocatore. Ognuno, ogni società, ragazzi, tira il mulino dalla... Tira l'acqua al proprio mulino. Come tira il mulino? Questo è bellissimo, ragazzi. Tira l'acqua al proprio mulino. Pensiamo davvero che sia solo la Juventus sul discorso plusvalenze fittizie? In realtà, insieme alla Juventus, tempo fa, erano state assolte altre società. Altre società. E adesso vedremo cosa succederà. Tirando in ballo la Juventus verranno ritirate fuori magari anche le altre. Lo vedremo. Il problema è sempre quello. Finché chi regolamenta tutto ciò non offre, cioè offre delle, come li chiamiamo, dei punti morti, no? Che offre un vuoto di protocollo sotto alcuni aspetti. Tutte le società, ragazzi, faranno ciò che è meglio per loro, in realtà. Vediamo, vediamo quello che succede. Oggi, oggi, francamente, parliamo del nulla. Se poi, oltre alle inchieste, tra le inchieste legate alle plusvalenze, c'è qualcos'altro, lì vediamo cosa succede. Però, ripeto, uscirse fuori con le banalità che sento adesso dai presidenti della federazione, con la banalità del ministro dello sport, quando in realtà, se uno è analitico, sta lì a controllare da mattina a sera, prima che tutto ciò accade, forse non arriviamo a questa storia. Sui primi, invece, che cadono ogni volta dal pero. A me ogni volta queste robe qua fanno, da un lato fanno ridere, perché c'è gente che magari ci sta anche dietro a tutto ciò. Io non lo so, non so veramente cosa raggiungere. In tutto ciò, andando invece ai fatti, andando invece agli sviluppi, gli ultimi, in casa Juventus, si parla tanto di Darpiero. È stato avvicinato, dal punto di vista dirigenziale, la possibilità di ricoprire un ruolo importante nella nuova Juventus. E lui, tramite un commento Instagram, ha detto tante tante robe. Soprattutto non commenterò notizie in descrizione, è una fase delicata. L'unica cosa da fare ora è sopportare i nuovi dirigenti che lavoreranno con la professionalità e la passione che meritano i tifosi e la nostra maglia. Lui se ne ha abbastanza tirato fuori, ovviamente, e sul discorso entrare o non entrare fa parte da Juventus, non dice, non aggiunge francamente nulla. A me sembra abbastanza chiaro che se arriva la chiamata, lui, secondo me, prende il volo e offrirà le sue competenze alla Juventus, ma più che le sue competenze, la sua professionalità e la sua passione, che lo regga inevitabilmente ai colori juventini. Io, ripeto, da esterno, vedere una figura come Darpiero alla Juventus, per me sarebbe comunque piacevole. Uno che è cresciuto con Zanetti, Maldini, del Piero in campo, ritrovarselo comunque in qualche modo in un ruolo manageriale e comunque ancora attivi nella propria squadra, per me comunque sarebbe, non dico un ritorno al passato, ma sarebbe bello, ripeto, sarebbe bello e interessante. Niente, in attesa, speriamo di avere altri aggiornamenti e non altre dichiarazioni fasulle che non hanno veramente nessun scopo, ripeto, sentire queste banalità al giorno d'oggi, anche no, se è possibile. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate la cazzo se volete iscrivervi al canale, un grande abbraccio. Daneschio! Ciao!